E' Maria Scantamburla, di 88 anni, originaria del Veneto, ma da diversi anni a Crevola d'Ossola, la vittima dell'incidente avvenuto ieri intorno alle 18.40 a Preglia in via Sempione. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Preglia e del nucleo radiomobile di Domodossola, la signora che aveva problemi a camminare stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da un Audi A1 condotta da DC 72 anni, una donna anche lei residente in paese. Le condizioni dell'anziana sono apparse subito molto gravi e il personale del 118 giunto sul posto ha cercato in tutti i modi di salvarle la vita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e il medico ha dovuto dichiararne il decesso. Le indagini dei militari del capitano Davide Lazzaro per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto sono ancora in corso. Grazie a tutti.